Ehi, Klaus, aspetta un attimo, calmati. Fermi! Fermi tutti! Una snuff movie con attori porno che muoiono veramente e senza le tue manate etiche del cazzo! No! Questa volta non mi freghi! Non questa volta! Io me ne sono sempre fregato dei vostri traffici. Ho sempre fatto soltanto il mio lavoro. Ma questa volta, questa volta ti rendi conto di quello che ci è capitato per le mani? Uno snuff movie con creature paranormali in karma ed ossa e ammazzamenti reali! Pieno all'ultima goccia di sangue! Roba mai vista! Tu sei pazzo! Io sono un visionario! Io sono un visionario!